Il progetto 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 decisioni teoriche in aula sul territorio della regione Marche, diviso però un po' per provincia, quindi quelli della provincia di Pesaro facevano un percorso riguardante il loro territorio e gli altri della provincia d'Ancona un altro percorso. Fondamentalmente si sono analizzate la fauna, la flora, i prodotti enogastronomici della regione e la morfologia del territorio della regione. Poi la seconda parte di questo progetto prevede invece la formazione tecnologica da parte degli alunni proprio per avere gli strumenti necessari a un'eventuale valorizzazione del territorio nel mondo del web. Quindi questo è lo scopo, insegnare agli alunni a utilizzare le nuove tecnologie per sponsorizzare un po' il proprio territorio? Per promuovere il territorio, proprio per inculcare, diciamo, negli allievi dare il loro modo di ottenere le competenze o perlomeno sapere dove cercare le cose per poter valorizzare attraverso il web il territorio dove vivono. Sotto tutti gli aspetti, quindi dal punto di vista territoriale, dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista culturale. Dopo ognuno, in base alle proprie capacità, le proprie caratteristiche, saprà e vorrà utilizzare questi strumenti per realizzare questi scopi. Infatti è previsto anche un concorso alla fine del progetto che premierà il miglior progetto realizzato sotto qualsiasi forma dagli alunni del corso. Ad esempio potrebbero realizzare un sito web oppure un'app oppure fare una campagna di mail marketing. Quindi verrà premiato l'alunno che risulterà aver realizzato il miglior prodotto in questo senso. La terza parte del progetto che vede come protagonista le ACLI della provincia di Ancona e della provincia di Pesaro consiste nella realizzazione di un business plan di una eventuale futura azienda che operi nel sociale. Quindi questa era aperta oltre ai corsisti e anche agli esterni dove appunto i ragazzi potevano presentare un loro progetto di impresa sociale. Il titolo è I alla terza. I alla terza vuol dire idee, impresa e ICT, Information Communication Technology. Quindi praticamente creare imprese nuove, imprese sociali in questo caso, attraverso questi mezzi. E quindi a un certo punto ACLI si è trovata, praticamente ha compartecipato a questo progetto affinché per quanto riguarda i giovani opportunamente informati del territorio, delle valenze del territorio da prima, poi chiaramente attraverso questo tranche, questo pezzo di corso che si interessa di ICT in particolare e il successivo che poi fa ACLI in maniera specifica, che praticamente informa, fa delle lezioni teoriche, pratiche per quanto riguarda l'impresa sociale, le cooperative e la creazione di imprese sociali. Alla fine il risultato è che i giovani hanno un'informazione un po' più dettagliata e partecipano a stendere progetti che poi gli serviranno per la loro attività futura. Il corso che abbiamo fatto con varie province della zona delle Marche e la nostra azienda WebSolute mira principalmente a far conoscere ai ragazzi un po' il mondo web, sia per un'eventuale questione di orientamento poi all'uscita dalla scuola, sia molto più probabilmente in casi come quello di Alberghiero o altri istituti più tecnici, nel trovare un utilizzo migliore per le reti, per quanto riguarda il pubblicizzarsi, lo scrivere eventualmente per i propri siti, nel caso uno volesse aprire un negozio di pasticceria con online, ad esempio un ristorante o un hotel, trovare dei modi per pubblicizzarsi all'interno del web per quanto riguarda la materia che attualmente faccio io, mentre i miei colleghi ad esempio possono insegnare come scrivere meglio all'interno del proprio sito per essere più appetibili, più riconoscibili rispetto ad altri, come creare contenuti video interessanti per colpire gli utenti e fondamentalmente per portare visitatori all'interno della propria attività. Te e i tuoi compagni, come vi trovate? È bello il corso, è bello tutto il progetto in sé? Vedete aspettative con questo progetto? Penso di sì, parlando per me penso di sì. Secondo me è un bel progetto, secondo me va rifatto tutti gli anni, secondo me deve essere aperto a tutti gli allunni che vogliono mettere in gioco la loro volontà nel fare, nel partecipare a un concorso, a un progetto. Quindi ti è piaciuto talmente tanto che inviti anche per i prossimi eventuali progetti e corsi a partecipare, numerosi. Sì, sì. Sì, sì. Sì.